buongiorno a tutti oggi siamo qui con la dottoressa chiara faenza di coppa italia la dottoressa è la responsabile per la sostenibilità e innovazione valori di coppa italia coppa italia se dico delle imprecisioni poi darò corretto da presa faenza comunque è una catena importante in italia ha una quota di mercato di circa 14 per cento per cui insieme a conad giocano la fetta forse più importante della distribuzione organizzata nel nostro paese abbiamo disturbato la dottoressa faenza perché stiamo seguendo da un po la comunicazione di coppa italia è una comunicazione abbastanza spinta perché questi temi diciamo di cui adesso si sta parlando quotidianamente della sostenibilità sia ambientale che sociale del benessere degli animali di una maggiore attenzione per la salute umana ci ha sembrato appunto da percorrendo un po la comunicazione coppa che sia un po una un filo conduttore di coppa insomma in questi anni ed in particolare quello che ci ha incuriosito e questo aspetto diciamo questi aspetti pratici concreti su temi tipo il l'uso degli antibiotici i residui per il momento mi è sembrato di capire soltanto degli alimenti di natura vegetale cioè ci è sembrato di capire ma l'abbiamo letto anche devo dire da dal materiale presente in rete di coppitalia che copp abbia fatto suo il principio della precauzione sul quale ci riconosciamo un po tutti noi europei e ci distingue un po dal resto del mondo no questo principio della precauzione no che è fondamentale cioè questo essere sospettosi di una prova contraria sostanzialmente non che la cosa faccia male ma che non faccia male perché abbiamo visto appunto perché sennò sembrerebbe assurda questa comunicazione cioè è ovvio che negli alimenti cioè nel cibo per l'uomo vista l'impalcatura legislativa europea non ci sta nulla di pericoloso nei residui di antibiotici nei residui di agrofarmaci nei contaminanti vari e di fatti diciamo anche il piano nazionale residui ci ha detto di stare tranquillo per rimangiare con tranquillità però è anche vero che e abbiamo già parlato in altre webinar e quando si parla di residui non è che residuositia non c'è nulla c'è un qualche cosa al di sotto di quello che viene chiamato il limite massimo residuale questo concetto lmr e però c'è il sospetto in alcune condizioni che qualcosa che residua non so ad esempio sostanze farmacologicamente attiva piuttosto che altri contaminanti comunque potrebbero avere delle interferenze negative sulla sulla salute umana parlo del microbioma intestinale parlo anche dell'antipiotico resistenza per cui queste scelte di coppia ci hanno molto incuriosito ci dice due parole innanzitutto e grazie dottoressa Renza di cos'è Coppa Italia? Sì grazie a lei intanto grazie molto dell'invito perché mi fa estremamente piacere raccontarvi il nostro impegno che nei fatti è un impegno storico su tutte le tematiche che ha citato ne ha citate moltissime io cercherò di agganciarmi ad alcune parole chiave che ha citato prima Coppa Italia è il consorzio nazionale delle cooperative del sistema COP e ha detto correttamente siamo tra i principali attori a livello nazionale siamo distribuiti su tutto il territorio nazionale ecco la differenza che vorrei sottolineare rispetto ad altre grandi distribuzioni organizzate è la nostra struttura cooperativa perché noi abbiamo una base sociale di oltre 6,6 milioni di soci ma soprattutto nella nostra mission nei nostri valori fondanti abbiamo alcuni elementi cardine a cui lei accennava prima quindi la tutela della salute degli interessi delle persone la protezione dell'ambiente il favorire un consumo consapevole e proprio basandoci su questi valori fondanti che ovviamente non sono gli unici cerchiamo di declinare nei nostri possibili ambiti di intervento le azioni che a nostro avviso e soprattutto anche in funzione delle evidenze scientifiche e in tali casi invece in virtù del principio di precauzione quando vi sono posizioni discordanti perché non sempre si arriva a una posizione scientifica definita nell'immediato cerchiamo appunto di tradurre le nostre policy in fatti concreti lungo tutta la filiera produttiva chiaramente il prodotto a marchio Coop, lei prima citava la comunicazione il prodotto a marchio Coop è il massimo testimonial diciamo di quello che nei fatti noi cerchiamo di mettere a terra lungo le filiere di produzione, filiere animali, filiere vegetali noi partiamo dalla produzione primaria quindi tecniche di allevamento, le produzioni agricole poi passiamo attraverso le produzioni dei prodotti la logistica per arrivare fino all'ultimo che assolutamente non è di minore importanza, consumatore finale perché su questo poi cerchiamo di promuovere una comunicazione per fare in modo di favorire scelte di acquisto consapevoli prima ha citato alcune tematiche, alcune tematiche quali ad esempio i residui residui ha assolutamente ragione nel dire che i residui devono essere rispondenti alla legge anche dai piani residui si vede che la tematica, il problema non sono i residui in assoluto tuttavia vi sono, e l'ha sempre citato poc'anzi, tematiche estremamente correlate quali ad esempio il tema dell'antibiotico resistenza chiaramente nei nostri prodotti i residui sono tutti al di sotto dei limiti di legge talvolta tenenti allo zero, non parlo di zero perché lo zero analitico ovviamente fa sorridere tuttavia un'assunzione prolungata nell'animale ma anche a livello di uomo ovviamente può portare al fenomeno dell'antibiotico resistenza quindi una resistenza dei vari organismi nei confronti di queste molecole che a un certo punto diventano inefficaci e mi aggancio per citare uno dei progetti più impattanti lungo le filiere animali che abbiamo lanciato negli ultimi anni per appunto affrontare questa tematica cioè l'antibiotico resistenza nei fatti è questo sviluppo di resistenza sviluppo di capacità di resistere alle sostanze quindi agli antibiotici e quindi di renderli inefficaci nei fatti però è molto chiaro e vi è unanimità, vi è una visione condivisa sul fatto che la strada da seguire sia quella di ridurre l'utilizzo degli antibiotici ridurlo e farne un uso razionale il che non vuol dire non utilizzarli in assoluto ma utilizzarli qualora siano necessari e solo nella minima quantità e soprattutto di non utilizzare le molecole critiche per l'uomo questo ovviamente è stato un elemento di visione comune a livello nazionale a livello europeo, è uno dei punti anche della recentissima farm to fork strategy è un elemento su cui noi alcuni anni fa abbiamo deciso di investire pesantemente in quanto ritenevamo importante il ruolo che avremmo potuto giocare in relazione a un potenziale cambio di paradigma nelle filiere produttive proprio perché la gestione delle filiere dei prodotti a marchio Coop è per noi un elemento cardine e poi se vuole le faccio un accenno sull'importanza delle filiere in generale per Coop ma la conoscenza dell'intera filiera, il rapporto con l'intera filiera ci ha permesso di guidare ma accompagnare penso che sia il termine migliore un cambio di gestione, un cambio di paradigma perché una migliore gestione dell'allevamento quindi migliori condizioni di benessere un uso più razionale degli antibiotici dove è possibile anche un non utilizzo se non necessario certamente può contribuire non è l'unico fattore ma può contribuire alla riduzione di questo fenomeno dell'antibiotico resistenza e sono partita da questo progetto perché per noi le filiere a marchio Coop significano in termini numerici giusto per dare un impatto a livello macro su 2000 allevamenti e su 30 milioni di animali ovviamente mi riferisco a tutte le filiere abbiamo implementato il progetto partendo dal 2016 e l'abbiamo sviluppato a tappe partendo dagli avicoli poi siamo passati alle uova siamo poi passati al suino a una parte del suino ai bovini poi abbiamo ripreso il suino perché comunque era una filiera complessa siamo arrivati perfino al littico al tacchino e al vitello questo per dare una percezione un feeling dell'importanza che possa avere per noi una tematica di questa portata dell'importanza che noi attribuiamo alla nostra gestione della filiera alla conoscenza della filiera che può permettere di guidare un cambio di paradigma per migliori condizioni di benessere e di biosicurezza perché solo così si può arrivare a meno uso di antibiotici e qualora necessario ovviamente un utilizzo scusi che se la interrompo prego perché è importante questo passaggio che voi nolente o volente come si dice alla fine condizionate le scelte quotidiane degli allevamenti perché alla fine voi siete il punto di contatto col consumatore voi avete il sentiment del consumatore e poi avete anche una vision diciamo di come avverrà il futuro per cui inevitabilmente voi condizionate anche di come si costruisce una stalla e di come si gestisce noi rimaniamo nel mondo dei nostri ruminanti noi siamo appunto ruminanzia ma in pratica dottoressa sui bovini voi cosa chiedete adesso le faccio una domanda molto da bar molto semplice cioè un allevatore di bovini che vuole dare la sua carne a cop oppure già la dà poi in pratica cosa gli chiedete ma allora intanto farei un piccolissimo passo indietro in relazione alla gestione della filiera cioè noi con la gestione della filiera siamo partiti 30 anni fa ovviamente con una gestione differente abbiamo man mano introdotto un controllo di filiera con verifiche fin dalle prime fasi e quindi abbiamo un sistema di controllo lungo tutti gli step produttivi nelle filiere abbiamo dei disciplinari che definiscono i requisiti che noi andiamo a richiedere in relazione alle varie alle varie filiere produttive chiaramente e all'interno di questi disciplinari che sono comunque documenti tecnici ecco relativi ai vari step delle filiere produttive sono descritti i requisiti che noi andiamo a chiedere sia a livello gestionale che a livello di caratteristiche prodotto posso citare alcuni elementi giusto per dare per dare un flash esatto allora per riferirmi a quest'ultima diciamo a quest'ultimo progetto relativamente all'antibiotico abbiamo richiesto e siamo riusciti insieme a tutti gli seconder delle filiere produttive ad arrivare ad avere animali allevati senza uso di antibiotici negli ultimi 4 mesi di vita quindi certamente tra i requisiti ad esempio ci sarà anche questo elemento che fra le altre cose e qui mi ricollego al ragionamento che abbiamo fatto verso il consumatore viene pure comunicato in etichetta attraverso un bollo che lo identifichi e che quindi valorizzi anche questa caratteristica apro un inciso non tutto può essere valorizzato in etichetta le etichette purtroppo sono dimensionalmente finite bisogna operare delle scelte ma riteniamo che le etichette siano uno tra gli strumenti importanti per sensibilizzare il consumatore e renderlo edotto e consapevole di certe tematiche su cui in alcuni casi talvolta c'è anche informazione non corretta ecco non pienamente corretta in generale quindi tutte le volte che si può si possono avere dei momenti di confronto proattivi e costruttivi anche come questo riteniamo che siano estremamente utili per creare corretta informazione lungo gli stakeholder delle filiere e nella fondolinea verso il consumatore quindi un approccio sempre a matrice non c'è un unico mezzo per raggiungere un obiettivo ma ci sono vari mezzi varie modalità che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo quindi è chiarissimo questo rimaniamo nel discorso dell'antibiotico perché poi alla fine non è come a volte si dice un antibiotic free è una sostanzialmente di un allungamento enorme del tempo di sospensione se mi consente allora dipende dipende dalle filiere nel senso che la gestione dell'antibiotico come dicevo prima è ovviamente relativa alla gestione all'intero sistema di gestione in termini di benessere biossicurezza dell'animale tempo di vita dell'animale e il tipo di animale che stiamo considerando per farle un esempio ed esplicitare meglio sugli avicoli abbiamo l'allevamento senza uso di antibiotici avicoli intesi come i polli ma anche le ovaiole sui suini abbiamo una sospensione negli ultimi mesi ma e ci tengo a sottolineare non c'è un uso smodato nei mesi prima c'è comunque un uso razionale un minor uso l'uso minore possibile compatibilmente alla situazione grazie all'adozione di migliori pratiche perché se no chiaramente tutto il castello cadrebbe cioè nel caso dell'ittico io vado a toccare gli ultimi sei mesi poi nel caso appunto di tutto di tutti i bovini mi riferisco ai quattro mesi questo però non vuol dire che sia una situazione statica la situazione è in continua evoluzione perché? perché le tecnologie si evolvono perché le modalità gestionali si evolvono e vi possono essere delle implementazioni step by step o anche investimenti che non possono essere fatti tutti e subito che chiaramente ci possono portare a un miglioramento progressivo cioè la fotografia che io le ho molto velocemente sommariamente fatto sui mesi riferiti alle varie filiere è molto chiara è molto chiara l'omonimia insomma però effettivamente è chiara sì non 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 si noi mi ricollego a quello che diceva relativamente ai bovini perché per concludere darle qualche altro esempio in realtà sempre sui bovini vitellone scottona noi nel dicevo i disciplinari disciplinari che mi fanno e mi definiscono criteri e requisiti relativi alle mie filiere e questi criteri e requisiti sono relativi a vari aspetti ad aspetti di igiene e sicurezza ad aspetti di benessere animale per noi assolutamente fondamentale ad aspetti relativi alle caratteristiche quindi a requisiti di prodotto per citarne altri relativi al vitellone alla scottona e per ovviamente citare elementi che sono comunicati pubblicamente tutto il bovino adulto dal 2017 viene valutato in riferimento al protocollo allo standard crema di benessere animale e questi prodotti queste filiere sono all'interno della nostra certificazione del servizio di controllo per cui noi garantiamo il fatto che vi sia un'alimentazione OGM Free poi vi sono altre caratteristiche le ho citato le principali che sono anche riportate sull'etichetta dei prodotti il requisito del crema quindi la certificazione la valutazione del benessere animale secondo il crema è stato esteso nel 2019 anche alle filiere delle vacche da latte e per i fornitori i fornitori a marchio Coppa hanno ottenuto la certificazione appunto benessere animale secondo lo standard crema con un superamento di una soglia minima dottoressa un passo ancora indietro perché ci sta chiarendo a me personalmente tante cose che mi erano sfuggite gravemente questa cosa torniamo sempre agli antibiotici nei vostri schiazzali ci sono decine e decine di metri di prodotti del latte diciamo dal fresco ht formaggi eccetera come vi state muovendo sul campo diciamo dell'uso prudente degli antibiotici o dovete ancora iniziare questo argomento sui derivati del latte dobbiamo ancora iniziare nel senso che siamo partiti dai prodotti coinvolti direttamente quindi dalle carni e siamo passati a un derivato le uova perché non nego fosse con molte similitudini relativamente alla gestione degli avicoli e quindi ovviamente siamo riusciti non senza sforzi però con una quantità di sforzi gestibili facilmente gestibili siamo riusciti a portare a casa l'obiettivo questo non vuol dire appunto che non si stia ragionando sull'estensione di questo progetto anche ad altre filiere ma ovviamente questo dipende dal livello di complessità e dall'evoluzione anche tecnologica e scientifiche che ci saranno perfetto facciamo un salto serve da parlare tutto il giorno ma non si può facciamo un salto su questo aspetto invece degli agrofarmaci perché ovviamente ben sa gli allevamenti di ruminanti convivono con l'azienda agricola non possono essere allevamenti senza terra come magari dei monogastici per cui gli allevatori sono agricoltori e quindi coltivano per produrre alimenti diciamo usotecnici che poi inevitabilmente questi alimenti se hanno dei residui entrano nelle catene alimentari cioè entrano diciamo nella carne e nell'acqua poi avete fatto dei passi importanti stavo vedendo dal passato cioè dal bandire sempre nell'ottica del principio della precauzione ovviamente quindi non andando in conflitto con quella che è la legislazione europea le indicazioni dell'EFSA alcuni diciamo agrofarmaci alcuni riservanti so farlo del virus come esempio su tutti però leggevo appunto che state addirittura vi siete dati l'obiettivo mi torrego se sbaglio di scendere del 70% al di sotto del limite massimo residuale per alcuni agrofarmaci allora molte informazioni che ha appena citato sono corrette una no e sono contenta di dirglielo sorrido perché in realtà non è un obiettivo ma è un target già raggiunto non è un obiettivo attendere ma è un target raggiunto le faccio un veloce inquadramento di come gestiamo tutta la parte agrofarmaci ovviamente in riferimento alle filiere ortofrutticole dei prodotti a marchio cotta queste rientrano sempre e mi riaggancio al punto di partenza gli argomenti core per noi quello che ci sta più a cuore quindi alcuni elementi valoriali della nostra mission cooperativa cioè noi abbiamo come elementi cardine la protezione dell'ambiente e la tutela della salute dei consumatori e come lei giustamente dice i limiti non non vengono sostanzialmente nella maggior parte dei casi sforati mi viene da dire per fortuna tuttavia il fatto di utilizzare chimica nella stessa logica degli antibiotici però di utilizzare chimica nelle coltivazioni non implica necessariamente che non possa che questo non possa portare degli effetti degli effetti collaterali a breve medio o lungo termine sull'ambiente o anche sull'uomo che non necessariamente siano noti oggi quindi in virtù del principio di precauzione noi e come scelta in realtà nelle filiere rotofruticola marchio cop siamo partiti da lunghissima data da 30 anni nella sostanza applicando tecniche di produzione agricole possibilmente meno impattanti delle altre e quindi in analogia alla lotta integrata tanto per intenderci che oggi appunto è un termine che bisogna utilizzare con molta attenzione però applicando tecniche che vengono utilizzate in lotta integrata abbiamo favorito l'uso della promozione dei prodotti bio che non necessariamente sono prodotti privi di trattamenti ma che certamente applicano anche in questo caso metodologie tecniche di produzione che tendenzialmente hanno l'obiettivo di rispettare maggiormente l'ambiente quindi partiamo da lontano con l'approccio in ortofrutta marchio cop lei ha correttamente citato il fatto che negli anni in virtù del principio di precauzione si siano escluse ha citato il glifosato perché è l'ultima che è stata fra virgolette pubblicizzata e perché è stata pubblicizzata in realtà in questi 30 anni abbiamo fatto molte scelte non rese pubbliche perché mi passi il termine più prettamente tecniche per addette ai lavori difficilmente comprensibili da consumatore che andavano nella direzione di escludere precauzionalmente l'uso di alcune molecole nelle filiere rotofruticole quindi nella coltivazione delle filiere rotofruticole dei prodotti a marchio cop in alcuni casi parecchi queste molecole sono poi state successivamente escluse anche a livello normativo a volte abbiamo fatto un po' da apripista da questo punto di vista proprio perché la gestione della filiera che citavo poc'anzi ci permette di farlo perché ovviamente il prodotto a marchio cop non viene prodotto direttamente da noi ma siamo perfettamente consapevoli della nostra forza come retailer a livello quantomeno di influenza poi nel caso del prodotto a marchio cop non è solo un'influenza ma diventano requisiti requisiti contrattuali perché tutti i documenti tecnici fanno parte integrante dei contratti di fornitura regolamentare quindi diventano richieste vero e proprio sono richieste caldamente consigliate diciamo così da un certo punto di vista se mi permette la battuta ecco quindi chiaramente sulle filiere noi abbiamo un forte impatto per ciò che riguarda possibili cambi o indirettamenti ecco negli ultimi anni quindi nel 2019 abbiamo fatto un altro passo scusi faccio un passo indietro perché l'ho detto all'inizio ma poi dopo ho divagato questo approccio sistemico sulle filiere di ortofrutticola e marchio cop ci ha permesso negli anni di arrivare ad avere una garanzia di residui sui prodotti ortofrutticola e marchio cop di residui inferiori del 70% rispetto al limite di legge e questo va in una logica non tanto di un singolo residuo ma va in una logica precauzionale soprattutto in riferimento a possibili sinergie di vari residui che ovviamente sono in rischio ancora oggi maggiore perché tante volte anche nelle analisi diciamo ufficiali quando si ragiona si ragiona in termini di residuo l'approccio multiresiduale è di recente acquisizione e negli ultimi anni sta venendo avanti l'analisi dei rischi specifica per i multiresidui comunque per rifarmi all'ultimo progetto lanciato che è stato lanciato appunto l'anno passato quindi quella che noi chiamiamo agricoltura d'alta sostenibilità abbiamo fatto un ulteriore passo avanti un ulteriore gradino abbiamo coinvolto le nostre filiere per chiedere di impegnarsi insieme a noi per migliorare ulteriormente quindi abbiamo certamente definito l'esclusione di alcune altre molecole correttamente come lei diceva tra cui il glifosato in via precauzionale e abbiamo spostato anche o comunque focalizzato ulteriormente l'attenzione sull'importanza della gestione dicevo prima l'applicazione di tecniche con minor impatti perché la gestione è fondamentale se uno fa una buona gestione probabilmente avrà una facilitazione nell'uso razionale della chimica che vado ad utilizzare con lo stesso approccio dell'uso degli antibiotici in allevamento se io ho una buona gestione ne userò il minimo indispensabile solo quando necessario se invece ho una cattiva gestione o una gestione diciamo non ottimizzata mi farà certamente più comodo utilizzare un approccio orizzontale e quindi un'applicazione a pioggia comunque trasversale ecco con la stessa razio adesso visto che le tecnologie ci vengono in supporto ci aiutano abbiamo chiesto di perseguire una sostenibilità ambientale dell'ortofrutta fresca con l'applicazione dell'agricoltura di precisione che ha alcuni obiettivi principali in primis la riduzione dell'uso di risorse quindi un minore utilizzo di acqua un minore uso di concimi e una riduzione anche dell'impiego di pesticidi e qui come per gli antibiotici mi ricollego al fatto che l'abbiamo lanciata nel 2019 e in realtà ci trova perfettamente in linea con le strategie della farm to fork che hanno dato degli obiettivi entro il 2030 per ridurre i pesticidi in una certa percentuale quindi 50% una riduzione del 20% dei concimi una riduzione delle vendite e qui mi riaggancio degli antibiotici del 50% implementazione delle tecniche di coltivazione biologica ma soprattutto appunto chiedono un approccio più razionale nei fatti chiedono un approccio più razionale siamo convinti che l'agricoltura di precisione quindi quella che noi abbiamo chiamato agricoltura ad alta sostenibilità che include l'agricoltura di precisione e che applica altre anche modalità gestionali potrà permettere una maggiore tutela dei terreni con pratiche agronomiche di minore impatto possibile sul terreno e dicevo prima minore l'uso di composti chimici in generale applicazione delle migliori tecnologie possibili le rotazioni corrette e le rotazioni culturali in riferimento alle acque certamente il minore uso di acqua che è un bene prezioso ed è anche uno degli obiettivi dei sustainable development goals definiti dalle Nazioni Unite tra il 2015 e il 2016 e al contempo però per ricollegarmi anche a uno degli elementi della tutela dei terreni una minore emissione nelle acque sia superficiali che profonde della minore quantità possibile di sostanze chimiche chiaramente e questi due elementi poi andranno a concorrere insieme ad altre modalità gestionali alla minore emissione di sostanze in atmosfera a una corrispondente anche tutela della diversità biologica e altro elemento importante è l'utilizzo nelle produzioni agricole anche di materiali con elevato livello di compatibilità per l'ambiente con l'ambiente perché non è di minore importanza il fatto di utilizzare materiali che poi abbandonati in loco possano o meno creare problematiche a livello ambientale chiarissimo adesso entriamo in chiusura nel diciamo in questo mondo dei consumatori no? cioè noi diciamo delle produzioni primarie li vediamo da lontano con un binocolo però sappiamo ormai il consumatore non è più come quello di una volta probabilmente che si può ipnotizzare o di orientare o di orientare a prescindere perché insomma i social network e internet hanno permesso un po' a loro di diventare più protagonisti di prima e la domanda è questa guardi perché gli allevatori io parlo chiaramente la nostra rivista è molto specializzata gli allevatori comprendono che alcune cose vanno fatte che il passato non è più quello che si può continuare a vivere eccetera bisogna innovare l'allevatore è un cittadino anche lui non è una specie a sé stante però lei capisce che tante cose non so addirittura gli antibiotici usare coltivare in maniera diversa dare più spazio agli animali quindi il benessere sono investimenti che si fanno anche imponenti perché non è poi così semplice a volte questa riconversione chiaramente bisogna il dubbio è il sistema è pronto il sistema diciamo delle produzioni primarie ma il consumatore secondo lei e se non lo sapete voi non lo sa probabilmente nessuno ma è nel momento in cui è il carrello in mano vuoto le sue scelte mettiamo un prodotto altamente sostenibile che costa di più necessariamente ovviamente ma è in grado di spendere cioè è pronto a fare questa scelta di ritribuire sostanzialmente gli sforzi della produzione primaria per un ambiente migliore e un benessere migliore degli animali o è presto ancora allora intanto mi riaggancio all'importanza della comunicazione che citavamo prima perché è fondamentale il fatto di guidare il consumatore nelle sue scelte di acquisto perché il consumatore è vero che è certamente un consumatore più informato è certamente un consumatore più consapevole ma è un consumatore in alcuni casi che viene bombardato da una miriade di informazioni non per niente si notano talvolta dei comportamenti coerenti al dichiarato e talvolta dei comportamenti incoerenti al dichiarato dal punto di vista degli acquisti realmente fatti tuttavia la cosa che le posso dire vedendo dall'ultimo rapporto COP 2020 che nonostante tutto ciò che sta accadendo noi avevamo un rapporto COP 2019 che aveva mostrato una grandissima attenzione ai temi della sostenibilità da parte del consumatore il rapporto COP 2020 che è uscito a settembre ci ha posto di fronte a un cambiamento epocale perché sono cambiati tantissimi aspetti sta cambiando il mondo stiamo vivendo in una bolla ci siamo ancora dentro siamo in uno stato di incertezza su cosa accadrà in futuro stiamo vivendo la più grande recessione del dopoguerra nei fatti e abbiamo visto come le pandemie abbiano riscritto la storia nell'atteggiamento dei consumatori e quindi anche nelle loro scelte di acquisto per il 2021 dal rapporto COP abbiamo visto che certamente i consumatori sono molto focalizzati sul tema salute sul tema delle relazioni personali su tutte le attività in home sugli acquisti virtuali ma e non vogliono risparmiare sul cibo elemento comunque non scontato considerato i tempi che corrono poi lei mi potrebbe domandare ma lo faranno effettivamente di spendere non risparmiando sul cibo qui le rispondo solo il tempo ci darà ragione o meno se il loro dichiarato a settembre 2020 verrà confermato nel 2021 tuttavia ancora a settembre 2020 dopo mesi di pandemia mondiale quindi avendo passato la prima fase del covid-19 più o meno acciaccati diciamo diciamo che si sono continuati a dichiarare estremamente focalizzati e attenti sul tema della sostenibilità che continua a giocare dalle dichiarazioni un ruolo estremamente importante un 40-42% ha dichiarato essere un tema di grande importanza e mostra un'attenzione degli italiani verso uno stile di vita sostenibile sia verso l'ambiente sia per ciò che riguarda i prodotti e gli imballaggi questa è la fotografia che ne esce cioè il consumatore prevede di aumentare in base a ciò che dice gli acquisti di prodotti alimentari sostenibili e le motivazioni mostrano la tutela dell'ambiente al primo posto in realtà tutela dell'ambiente tutela della salute perché se la giocano ok e senta dottoressa così siamo veramente in chiusura anche perché lei è sempre molto impegnata e invece il claim è benessere animale orienta gli acquisti secondo la vostra esperienza c'è un prodotto in cui c'è un ipotetico bollino benessere animale lo prende di più un consumatore rispetto a un altro? va ben spiegato perché benessere animale genericamente parlando vuol dire tutto e niente quindi la cosa che per certo abbiamo visto che al consumatore bisogna spiegare cosa si intende perché un appunto un bollino come l'ha definito lei come l'avevo definita anch'io da solo fa fatica non vive di vita propria quindi bisogna affiancargli un sistema di comunicazione che espliciti meglio e che racconti cosa ci sta dietro che cosa significa perché anche solo nell'interlocuzione che noi abbiamo avuto prima sul tema degli antibiotici in realtà viene banalmente riassunto senza allevato senza uso di antibiotici oppure allevato senza uso di antibiotici negli ultimi x mesi ma in realtà dietro c'è un mondo c'è una gestione c'è un significato c'è la correlazione con tutto il tema dell'antibiotico resistenza quindi sicuramente c'è un ritorno a parte del consumatore ma va ben spiegato le faccio alcuni esempi di come ci siamo mossi ulteriori giusto per provare a spiegare sul pollo dove ad oggi sulle prime e le seconde lavorazioni abbiamo raggiunto degli ulteriori obiettivi in termini di benessere del pollo diamo la spiegazione ovviamente in maniera sintetica e per ciò che si può fare sull'etichetta poi usiamo altri mezzi e relativamente a che cosa significa benessere quindi maggiore spazio in allevamento rispetto alla legge del fatto che vi siano arricchimenti ambientali quali ad esempio le balle di pali eccetera eccetera perché per favorire i comportamenti naturali l'uso di luce naturale si cerca sempre di spiegare per quanto possibile perché il generico claim benessere può diventare non 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 qualificante da solo bisogna dare spiegazioni bisogna guidare il consumatore accompagnandolo nel capire il perché e che cosa ci sta dietro perché solo con una consapevolezza evoluta da parte del consumatore noi potremo arrivare speriamo di arrivare ad un comportamento sempre più coerente da parte dello stesso che faccia ciò che effettivamente ha dichiarato e non che poi quando è davanti allo scaffale e si trova magari un prodotto con una differenza di prezzo di qualche centesimo scelga quello che costa meno a prescindere da tutto bisogna spiegare il valore intrinseco dei prodotti bisogna spiegare il valore intrinseco della filiera delle gestioni e quindi tutto ciò che ci sta dietro perfetto dottoressa noi la ringraziamo molto perché personalmente mi ha chiarito molte cose e credo che avrà chiarito molte cose i nostri lettori quindi la ringrazio la saluto grazie a lei e una buona giornata grazie a lei grazie a lei